Episodio 54 Excel, oggi sarà molto lungo perché parleremo delle macro sotto tutti i punti di vista. Cosa sono le macro? Le macro sono dei comandi unici, possiamo chiamarli, che in realtà vanno a raggruppare sotto di essi più comandi. Quindi ecco perché si chiamano macro, perché sono macro comandi, sono dei comandi che non vanno ad eseguire un'azione, tipo mettere il bold, mettere il background o il colore, ma vanno a fare tutto insieme se lo vogliamo. Allora cominciamo subito, potremmo attivare le macro da visualizza, e vedete che abbiamo qua le macro, oppure qua in basso avete, qua vedete nessuna registrazione di macro in corso, in basso a sinistra avete il tastino per attivare e stoppare le macro, oppure ci mettiamo sul ribbon, tasto destro, personalizza barra multifunzione, e noi vogliamo vedere, ecco qua la tab sviluppo, la attiviamo, ok, e se andiamo su sviluppo, ecco qua, vedete, abbiamo la parte dedicata al codice con le macro. Allora, creiamo la nostra prima macro, in questa macro vogliamo semplicemente formattare una cella in un modo particolare, magari con sfondo giallo e poi quello che ci capita, quindi ci posizioniamo direttamente, perché altrimenti ci darà problemi e ve lo spiegherò più avanti con le referenze. Andiamo su macro, vedete non abbiamo niente al momento, perciò possiamo fare tranquillamente registra macro, macro 1 va più che bene, mettiamo ctrl z, allora memorizza questa macro in questa cartella di lavoro, ovvero solo questo file. Nuova cartella di lavoro, ovvero andiamo a creare un altro file per salvarle macro, oppure cartella macro personale è un file che, sempre un worksheet, quindi sempre la nostra cartella di lavoro, che va ad essere lanciato in modo nascosto mentre lavoriamo, perciò poi vi farò vedere come andarlo a pescare ed eliminarlo eventualmente. Al momento ne vogliamo fare questa cartella di lavoro, descrizione potete mettere quello che volete, io scrivo a caso, facciamo ok e adesso ci sta registrando, quindi tutte le mosse che facciamo verranno registrate, io voglio semplicemente fare giallo, rosso, ecco qua, e grassetto. Possiamo andare, stoppare la nostra macro qua in basso, facciamo così, perfetto, l'abbiamo stoppata e ora ci possiamo posizionare ovunque e con ctrl z, vedete, attivare la nostra macro, oppure possiamo andare su sviluppo, macro, andiamo sulla nostra macro, anzi spostiamoci qua, ci mettiamo qua e facciamo, prendiamo questi qua, macro, esegui, vedete, abbiamo formattato a piacimento, lo faccio ancora, a piacimento le nostre celle con la macro che abbiamo creato. Ora andiamo a gestirle, torniamo su macro, vedete che possiamo appunto eseguire, possiamo modificarla, possiamo eliminarla con opzioni, abbiamo la descrizione e il tasto di scelta rapida, possiamo cambiare in realtà la macro, ci aprirà questo editor, quindi che è Visual Basic, dove andiamo a scrivere in VBA e ne parleremo molto più avanti nel corso, se volete andrò a creare un modulo apposta, qua è puro codice, in realtà c'è il colore, qualcosa possiamo anche distinguerlo, se andiamo a cambiare il font già potreste mettere il font, quindi anche se non sapete questo tipo di codice, alcune cose sono molto intuitive, in realtà adesso non lo vediamo, perciò possiamo tranquillamente chiudere, e questa era la modifica, quindi macro, questa sarebbe la modifica, al momento io voglio eliminare la macro, non lo faccio, però avete visto che potremmo farlo. Quindi vorrei salvare il mio file, perciò proviamo a salvare il file, facciamo mayusk f12, vedete che ci dà un problema, forse perché ho fatto mayusk f12? No, torniamo indietro, perché se io vado qua e provo a fare file, salva, stesso problema, impossibile salvare le caratteristiche seguenti, ora provo, lo faccio vedere con questo sfondo, perfetto, quindi mayusk f12, impossibile salvare le caratteristiche, cosa vogliamo fare? Vogliamo salvare la macro? Sì, però dobbiamo andare a creare un'altra cartella di lavoro, perché con il file xxls, che è quello di Excel che stiamo usando, non è possibile, abbiamo bisogno di salvare in un formato speciale che contenga le macro, ovvero del codice. Andiamo a fare, perciò no, voglio salvarlo in un altro file, eccolo qua, lo chiamo corso.excel.macro e dobbiamo andare a cambiare quella che è l'estensione, vedete qua, cartella di lavoro con attivazione macro di Excel, xlsm, dove m sta per macro. Io salvo in documenti, yes, sono già qua, salvo e se vado a prendere la cartella documenti, come potete ben vedere, abbiamo qua due file corso.excel e corso.excel.macro, provo a cambiare la visualizzazione, visualizza, icone grandi e vedete come questi due file hanno due icone diverse e qua c'è un punto esclamativo, ovvero siamo in un file con macro. Ora, nel momento in cui ho salvato un altro file, anche qua sono già nel mio file con macro, perciò se ve lo qui in macro lo trovo. Proviamo ad aprire invece l'altro file, perciò file, apri, anzi andiamo direttamente tra qua, corso Excel, benissimo, dovrebbe averci aperto esatto un'altra finestra. Se io torno su macro, apro macro, me la fa vedere solo perché è in un altro foglio che è già aperto, vedete tutte le cartelle di lavoro aperte, corso Excel macro, col punto esclamativo abbiamo già imparato i riferimenti degli altri fogli, quindi in realtà potremmo fare questa cartella di lavoro e vedete che non ci dà niente. Se volete utilizzare tutte le cartelle aperte potremmo fare esegui e vedete che c'è la presa lo stesso, però in questo foglio di lavoro che è xls, le macro non esistono, quindi chiudiamo questo, non voglio salvare e abbiamo il nostro file macro. Ora, chiudiamo un attimo anche questo, torno su documenti, apro e vedete che ci dà qualcosa, ci dà un avviso di sicurezza, quindi una notifica, le macro sono state disabilitate. Che cosa succede? Adesso lo vediamo nelle impostazioni delle opzioni, delle macro, di default abbiamo disabilitato le macro, questo perché essendo codice, chiunque potrebbe far girare nel momento in cui ne apremo il foglio, vanno le macro, perciò noi potremmo avere chissà che codice malware, quindi del codice che può generare dei virus, dei bug, dei problemi ed è giusto che ci andiamo a tutelare. In questo caso l'ho fatto io, abilito il contenuto e Excel si sente a posto con se stesso, quindi l'abbiamo rassicurato. Ora voglio andarvi a far vedere dalle opzioni per gestire tutta sta roba qua. Da questo momento questo file viene considerato attendibile, quindi viene considerato un file di cui possiamo fidarci. Andiamo su file, opzioni, andiamo su centro protezione, impostazioni centro protezione, impostazioni delle macro e vedete che abbiamo qua l'opzione disabilitare le macro VBA con notifica. Mi è arrivata prima la notifica, l'abbiamo abilitata, altrimenti potreste fare abilità tutte le macro oppure abilita solo le macro con la firma digitale, però anche qua si va sulla fiducia, voi non volete attivare automaticamente qualsiasi tipo di macro, volete essere sicuri, quindi se scaricate qualcosa da qualche parte che vi dà macro, diffidate a meno che conoscete effettivamente la fonte, perché potrebbe essere qualsiasi cosa, ok? Oppure disabilitare le macro senza notifica e poi ve le dovete abilitare. Diciamo che io disabiliterei con notifica oppure quest'altra qua, con la firma digitale. Un'altra cosa che voglio farvi vedere sono i documenti attendibili, quindi da questo momento, scusate, torniamo un attimo indietro, chiudiamo questo, se io vado a riaprirlo, ecco qua, se vado a riaprirlo vedete che non mi dà più la notifica, questo perché il foglio di lavoro ormai è considerato come un documento attendibile, quindi io torno su file, opzioni, vado su centro protezione, impostazioni, documenti attendibili, cancelliamo tutto, quindi è come se avessimo una lista di documenti attendibili, noi la cancelliamo, proviamo a chiudere qua, a riaprire, ed ecco qua che viene considerato ancora inattendibile e dobbiamo scegliere cosa fare. Io a sto giro voglio aprire l'altro file, mi trovo meglio, apriamo il corso di Excel, eccoci qua, vediamo come creare le macro su una cartella personale, se ci tenete quindi senza dover fare ogni volta un file apposta con le macro, possiamo salvarle in un file apposito, quindi che va in background, perciò ci spostiamo su sviluppo, andiamo a creare un registra macro, yes, macro 1, sarà sempre ctrl z, questa cartella di lavoro no, facciamo cartella macro personale, chiamiamola a prova, almeno so tornarci quando mi serve, andiamo a fare ok, a questo dato è già stata assegnata, nessun problema, la cambiamo, ok, e andiamo a fare quello che ci serve, quindi a sto punto non giallo, ma voglio distinguere l'arancione, col colore verde, non si vede niente, in grassetto un disastro, io sono a posto così, sviluppo, anzi da qua, stoppiamo la macro, proviamo, cosa che avevo fatto, ctrl, non mi ricordo, macro, opzioni, ok, ctrl b, che disastro, ctrl b, e vedete che funziona, ma in questo momento, se io vado su questa cartella di lavoro, non c'è niente, questo perché, andiamo a chiudere anche l'altro foglio, via, questo via, impossibile uscire, nessun problema, adesso lo chiudiamo, tac, chiudiamo qua, molto bene, torniamo sul nostro foglio, se vado a riaprire tutte le macro, vedete questa cartella di lavoro, non c'è niente, tutte le cartelle di lavoro aperte, attenzione, abbiamo un personal, xlsb macro 1, è vero, che è il nostro, eh, foglio personale, che va in background, con le macro, quindi è un file, su cui sono salvate tutte le nostre macro, personali, come se fosse una sorta di, di cloud, quindi non dobbiamo continuare, a salvare come macro, chiaramente sarà solo sul nostro computer, questo file, però può, può tornare utile, attenzione però, se io vado su visualizza, scopri, vedete qua, se io scopro, ecco qua, vedete che questa cartella di lavoro, era nascosta, quindi c'è effettivamente, un file di excel, che è nascosto, noi facciamo ok, e vedete, che abbiamo qua il nostro file, andiamo su sviluppo, macro, e qua c'è la macro, che fa effettivamente, riferimento, a questa cartella, se volete eliminare questo file, intanto non voglio salvare, se volete eliminare questo file, dovete andare su, C, andate su utenti, scegliete il vostro utente, ecco qua, mi raccomando, aprite questa barra, andate su opzioni, e andate su visualizzazione, scorrete qua sotto, cartelle e file nascosti, visualizza cartelle, file, e unità nascosti, fate ok, vi spostate su, app data, andate su roaming, cercate microsoft, eccolo qua, cerchiamo excel, eccolo qua, andiamo su xl start, e qua, doveste trovare, il vostro file, io chiaramente, non avendolo salvato, non me l'ha salvato, di conseguenza, non devo farlo, però qua in xl start, doveste trovare eventualmente, il file personal, molto bene, chiudiamo qua, e andiamo a vedere, quelle che sono le referenze, assolute e relative, per fare ciò, voglio chiudere un attimo qui, elimino questo, che non mi serve, elimina file, yes, apro course excel, senza formattazione, molto bene, allora, referenze relative e assoluta, apriamo lo sviluppo qua, e vedete che stiamo utilizzando, anzi non stiamo utilizzando, i riferimenti relativi, che cosa vuol dire, prima quando vi ho fatto fare la formattazione, affinché funzionasse, io vi ho fatto posizionare, prima dell'inizio della registrazione della macro, sulla casella, e poi vi ho detto, quando parte la macro, fate quello che vi serve, questo perché, se noi facciamo partire una macro, e poi ci spostiamo, l'ultima casella, che andiamo a cliccare, è quella su cui lui poi, andrà a generare ogni volta la macro, vi faccio vedere, sviluppo, andiamo su macro, anzi, registra macro, macro 1, anzi, facciamo macro assoluta, me la salvo qua nella mia cartella, perfetto, e la mettiamo come ctrl z, andiamo a fare ok, mi dà problemi perché non vuole gli spazi, quindi facciamo così, macro assoluta, ok, da questo momento, qualsiasi cosa ne andiamo a fare, anche come spostamento di cella, ce lo tiene a mente, quindi uno potrebbe dire, vabbè, io voglio prendere una qualsiasi colonna, prendo la colonna, e vado a dargli un background, benissimo, e un grassetto, così me la salvo come macro, ogni volta voglio cambiare, lo sfondo di una colonna, ok, non dà nessun problema, ci mettiamo qua, interrompi registrazione, e se io mi metto qua su E, voglio fare ctrl z, attenzione, torna su B, perché? questo perché stavamo utilizzando, i riferimenti assoluti, perciò lui tornerà sempre sulla colonna B, che per noi è abbastanza inutile, a meno che salviamo questa macro, in questa cartella, e su più fogli, vorremmo sempre fare la colonna B, come gialla, piuttosto che la salveremo, sulla cartella personale, che va in background, e su tutti i file capriremo, la colonna B, la andremo a fare in giallo, ha senso così, ma altrimenti così per noi non ha senso, perché se noi vogliamo E in giallo, non possiamo farlo, perché continua ad andare su B, quindi andiamo qua, su macro, eliminiamo questa, al momento non ci serve, yes, e cosa possiamo fare? Innanzitutto puliamo qua, benissimo, tac, nessun riempimento, ok, andiamo su sviluppo, e clicchiamo su usa riferimenti relativi, vedete? In questo modo, noi potremmo andare a fare quanto segue, per assurdo vogliamo far sì che ci mettiamo, su una intestazione, la facciamo diventare gialla, e poi qualche riga sotto, facciamo diventare una cella di un altro colore, ad esempio, vi faccio vedere quindi come funzionano i riferimenti relativi, perciò abbiamo i riferimenti relativi selezionati, creiamo una nuova macro, la chiamiamo macro relativa, con la referenza relativa, molto bene, gli diamo control z, andiamo a fare ok, e quello che voglio andare a modificare in questo caso è, facciamo grassetto e lo sfondo qui, poi ci spostiamo di non so quante celle, facciamo quattro, e andiamo a dargli un altro colore, vogliamo spostarci ancora? Facciamo magari nove, e gli diamo un grassetto, va bene, torniamo su qua, interrompe registrazione, e se io poi mi metto qui, control z, vedete? non importa dove io sia, se faccio control z, mi andrà a prendere in modo relativo quelle che sono le referenze, ovvero sono partito da qua sopra, mi ha reso giallo e in grassetto quello qua sopra, quello che era qui sopra, poi si è spostata di un, due, tre, quattro, mi ha reso questo arancione, si è spostata ancora di quattro, e mi ha reso ciò che c'è qua dentro in grassetto, ve lo faccio vedere anche qua, non è un problema, anche sui file vuoti, quindi vedete questa è la referenza relativa, bene, direi che sulle macro è davvero tutto, spero si sia capito, vi ho fatto di base la guida completa, sotto in iscrizione trovate tutto ciò che serve per supportare il canale, se ci tenete particolarmente, unive la community, e farò un salto sul mio sito dove pian piano andrò ad aggiungere corsi gratuiti, documentazione aggiuntiva ed esercitazioni, vi ringrazio, un abbraccio e alla prossima, ciao ciao!